Ciao a tutti carissimi villager e benvenuti in questo nuovo video in cui insieme a Gamers House andremo a salutare il 2021 e soprattutto andremo ad accogliere il nuovo anno, il 2022, un anno che sarà ricchissimo di eventi, competizioni e soprattutto gemme per tutti. Si è appena concluso l'ultimo torneo dell'anno, l'Elite Italian Tournament che è stato un qualcosa di assolutamente spettacolare sia per le modalità con cui si è sviluppato sia per i nomi dei player e dei team coinvolti, un qualcosa di assolutamente spettacolare. Se ve lo siete perso vi invito ad andare sul canale YouTube a recuperarlo. E adesso con l'inizio del 2022 è ora di ripartire da capo. Gamers House ha intenzione di stanziare oltre 300.000 gemme durante il corso dell'anno per premiare i migliori team e i migliori giocatori che prenderanno parte ai loro eventi. Una piccola precisazione, queste 300.000 gemme potrebbero subire delle variazioni ma a quanto mi hanno detto il numero dovrebbe essere proprio questo. Quindi aprite i forzieri, spalancate le tasche perché veramente è un qualcosa di incredibile. La prima cosa di cui dobbiamo assolutamente parlare è CCS, Clash of Clans Championship Series. Una sorta di campionato in cui si può prendere parte con diverse competizioni, che adesso andremo a vedere. Ognuna delle quali vi permetterà di vincere, oltre ai premi in gemme di cui abbiamo parlato, anche dei CCS point. Che vi serviranno per entrare in una sorta di classifica come potrebbe essere magari lo scudetto nel campionato di calcio. E grazie a questi punti potrete andare poi a competere nel torneo di fine anno, l'Elite Italian Tournament, che vi avevo accennato anche poco fa. In questo momento ci troviamo già nel server Discord dedicato a CCS. Tutti i riferimenti ovviamente li trovate qui sotto in descrizione. E possiamo già ammirare un fantastico calendario con tutti gli eventi del campionato già programmati e schedulati. Infatti nel calendario potete trovare una breve descrizione dell'evento con tutti i punti di riferimento che vi serviranno. Per esempio i requisiti e il regolamento, la finestra temporale in cui è possibile iscriversi e in cui si svolgerà il torneo. E ovviamente la distribuzione dei premi e dei CCS point. Anche questo aspetto fondamentale. Partiremmo già veramente all'inizio del 2022 con la famosissima ITCL 7 Heroes League. Proseguiremo poi con la Caps League edizione dedicata alla scalata. E andremo avanti poi anche con War League, altra competizione storica di Gamer's House. Altra cosa molto molto interessante. Se andate qui nella sezione eventi potete trovare anche qui tutti gli eventi già schedulati. e andando a selezionare appunto la notifica riceverete appunto una segnalazione non appena l'evento incomincerà. Una utility veramente molto molto comoda rilasciata da Discord da veramente pochissimo. Quindi consiglio a tutti quanti voi comunque di attivare le notifiche anche da qui per non perdervi nessuno degli eventi. Anche se volete semplicemente assistere come spettatori e non da giocatori. Diamo un breve sguardo anche alla server Discord di ITCL. In cui ovviamente vanno a prendere posto le tre competizioni che compongono appunto ITCL. Le troviamo anche in questo caso all'interno degli eventi. Sono già schedulate. Non sono altro comunque che una ripetizione di quelle all'interno del server Discord di CCS. E troviamo appunto Heroes League, Caps League e War League. Queste sono appunto le tre competizioni che formano ITCL. Ed eccoci arrivati sul server forse più importante di tutti quello che fa da base operativa. Nonché punto di ingresso ideale per tutti quanti nuovi giocatori. Sto parlando chiaramente del server Discord Gamers House. Trovate anche questo link qui sotto in descrizione. E qui appunto trovate veramente una panoramica di tutto quanto. Lo staff è sempre presente. Potete chiedere informazioni in qualsiasi momento. E vi verrà risposto nel più breve tempo possibile. Già oltre 1700 player fanno parte di questa grande associazione. Vi invito tutti quanti voi a entrarci al più presto. Per non perdervi appunto tutti gli eventi che verranno organizzati. Qui anche qui abbiamo diversi eventi già in programma. Ne abbiamo ben 16. Un qualcosa di incredibile. E qui vengono appunto proposti due eventi che non fanno parte di ITCL. Sto parlando chiaramente scendendo qua un pochettino più in basso di Trophies Challenge. Che praticamente è un evento dedicato alla scalata. Che si svolge tutto in una sera. E quindi vi dà la possibilità in un'unica serata. Quindi senza prendervi troppi impegni in tornei prolungati nel tempo o altro. Di portarvi a casa la bellezza di 9900 gem. E questo è il monte premi totale per la competizione. Altra competizione molto molto interessante è la GH Cup War Stile Esports 5v5 TH maxati. E anche questa vi dà la possibilità in 1, 2 o 3 giorni. Dipende da quanto siete bravi. Di portarvi a casa la bellezza di 17500 gem. Questo è il monte premi totale. Anche qui guardate che roba. Ci sarà una GH Cup al mese. Esattamente come una Trophies Challenge. E tutti quante le date sono già state programmate e schedulate dallo staff di Gamers House. Quindi un lavoro assolutamente eccellente da questo punto di vista. Potete iniziare fin da ora a organizzare i vostri player, i vostri team. Per poter prendere parte a queste competizioni. E sperare di portarvi a casa i monte premi relativi. La cosa assolutamente fantastica di tutto questo è che per la tessera non è necessario andare a pagare alcunché. La tessera viene elargita gratuitamente da Gamers House. Tutte le informazioni le potete trovare nelle sezioni di tesseramento. Oppure qui all'interno del server disco di Gamers House nella voce IA Games 365. Quindi a questo punto veramente non ci sono scuse. Non è necessario nemmeno pagare per avere la tessera e iscriversi a questi fantastici eventi. Che creano un ventaglio veramente completo. In modo da offrire a qualsiasi tipo di giocatore un evento dedicato. C'è l'evento delle war, l'evento single player, l'evento scalata, l'evento e-sports. Ce n'è veramente per tutti i gusti. Quindi questa è una breve panoramica. Avevo fatto anche un video tempo fa relativo esattamente al circuito di Clash of Clans Championship Series. Ve lo metterò quindi nelle schede dove potete andare a recuperarlo e ascoltarlo in modo più approfondito. Quindi a questo punto non mi resta che augurarvi un fantastico 2022 di Clash of Clans. Insieme a me ovviamente e a tutta l'associazione di Gamers House. Grazie a tutti.